Non è ancora chiaro se le utilizzerà o meno nelle domeniche di sole, ma le due Harley Davidson ricevute in regalo da Papa Francesco sono già un caso. In occasione dei 110 anni della famosa casa americana, un raduno eccezionale si svolge ad Ostia a partire da domani, con l'accesso a domenica di 2.100 euro e piazza San Pietro, prevista la presenza di oltre 35.000 moto.